buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video fase 2 di 3 infliggi danni ai giocatori entro 30 secondi dall'atterraggio dal bus della battaglia quindi entro 30 secondi da quando siamo atterrati dobbiamo fare 150 danni a un giocatore o più giocatori in una o più sessioni di gioco quindi è cumulativa scendiamo qua a foschi fumaioli e vediamo se riusciamo a vedere come si fa questo incarico epico della settimana 10 stagione 6 di Fortnite vediamo se arriva qualcuno importante trovare un'arma al volo e qualcuno entro 30 secondi da fightare ok qua non c'è il forziere vediamo un'arma al volo arriva qualcuno si eccolo la un'arma ce l'abbiamo qui ok prendiamo l'arma dove è dove sta scendendo dove sei dove sei sa che è andato giù vediamo 32 danni ok quindi ecco il metodo per fare questo incarico di questa settimana se volete supportarmi questo è il mio codice creatore vi ricordo che qui trovate il link sotto trovate il link di instagram dove pubblico il contest per vincere i premi che si trovano all'interno dei fumetti di batman.0 come il rampino artigliato di katuma per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo e buon game a tutti ciao